secondo te ti sto dicendo a me piace rimanere sempre dentro casa tutto quello che mi serve nella valigia e poi mi accompagni dal nonno non si può uscire mamma non si può uscire qual è il problema non si può uscire non voglio io faccio veramente anche le cose che dico io perché non ce la faccio di casa e cosa vorresti fare si claudio allora ti ho detto ti ho detto il problema qual è claudio il problema è il virus che purtroppo non possiamo uscire che tu piangi mamma mi fai sentire cosa non 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 Grazie a tutti.